Zanbelli si accentra, Zanbelli con il destro verso Mitrovic, il cross arretrato e il tiro di Bui, due volte! Spezia 0, Brescia 1, la firma è di Bui. Ecco il cross Sanzovini, un gol bellissimo di Marco Sanzovini, il terzo del campionato, la Spezia fa 1-1. Spara la porta, Cacca riesce a girarsi, poi Bovo in mezzo di Gennaro. E calcio di rigore, il fallo di Welbeck su Di Gennaro, calcio di rigore, si infuriano i giocatori del Brescia. Per me Welbeck si pianta giù, onestamente non vedo il fallo. Il fisco è l'arbitro, parte Di Gennaro! Lo Spezia avanti, 2-1, anti Gennaro su calcio di rigore, dopo Verona. Ribaltato il risultato, adesso conduce lo Spezia, deve inseguire il Brescia. Guarda Crisite per Sanzovini, il pallone che passa, Bovo può involarsi verso la porta di Arcari. Bovo, il tocco per Sanzovini. Sanzovini! Ancora Sanzovini, 3-1 Spezia. Ora manca una partita. Buona la partita!